regalavano i soldi ai ricchi. Tassi di interesse bassi e mutui agevolati per i ricchi dirigenti di New York, Los Angeles e San Francisco hanno messo in crisi la piccola banca americana. Piccola si fa per dire visto che prima dell'inizio della crisi era la tredicesima banca americana per dimensione. In questo video ripercorremo gli ultimi giorni di First Republic Bank, scopriremo perché è fallita ma soprattutto vedremo chi ci ha guadagnato dal suo salvataggio. Spoiler non sono i contribuenti americani. Nei salotti ricchi americani negli ultimi anni la voce si era sparsa rapidamente. C'è una banca che offre prestazioni a condizioni vantaggiose introvabili presso nessun'altra banca. Parliamo dei cosiddetti mutui jumbo, un particolare tipo di interessi dove si restituisce solamente la quota di interessi, mentre si inizia a restituire il capitale prestato solo dopo diversi anni, a volte addirittura 10. Questo tipo di mutui è esattamente l'opposto dei mutui subprime che ricorderete sono stati uno di quegli asset tossici che hanno scatenato la crisi del 2008. I mutui jumbo sono mutui destinati ad una popolazione ricca che tendenzialmente rappresenta un basso rischio per la banca, a differenza dei mutui subprime che invece sono più rischiosi, dato che sono destinati ad una fascia di popolazione che con più probabilità non ripagherà il mutuo. Con queste condizioni vantaggiose la First Republic Bank è riuscita ad attrare clientela ricchissima dalle principali città americane, compresi i dirigenti di altre banche, mentre i tassi di interesse crollavano verso lo zero durante tutto il periodo della pandemia. Tutto questo incredibile giro d'affari ha permesso a First Republic Bank di raddoppiare il suo giro d'affari negli ultimi cinque anni con una forte accelerazione proprio dal 2020 in avanti. Questa strategia però si è rivelata un colossale errore. A differenza del fallimento di Silicon Valley Bank di due mesi fa, oltre che al problema depositi, crollati del 40% solamente nel primo trimestre dell'anno, il problema per First Republic Bank è stata la quantità incredibile di questi prestiti a tassi di interesse bassissimi che aveva in pancia, molti dei quali sono stati concessi a persone che ad oggi hanno solamente ripagato parte degli interessi e non la quota capitale, come abbiamo visto prima. Questa caratteristica ha ridotto tantissimo il valore di questi mutui sul mercato, già per perché dovete sapere che tra gli asset che le banche possono vendere e scambiarsi tra di loro ci sono anche i mutui. La banca dunque lo scorso mese è andata in difficoltà per arginare la fuga dei depositi. Ricordiamo che la banca ha perso depositi per una cifra intorno ai 100 miliardi di dollari. Ha cercato di fare cassa, cercando compratori per i suoi asset, tra cui anche questo tipo di mutui. Inutile dire che non ha trovato nessuno. Questi prestiti hanno fatto sorgere anche qualche problema politico e morale. I regolatori, ovvero la Fed e il governo americano, hanno rimandato il più possibile il momento per aiutare la banca in difficoltà, cercando di non mettersi in cattiva luce, aiutando appunto una banca che negli anni ha promosso dei prestiti e dei mutui fatti su misura per la clientela ricca. Una cosa mal vista dagli elettori. Pensate che fino ad inizio 2023 quasi il 40 per cento dei prestiti e dei mutui messi dalla banca era costituito da mutui ancora in periodo di soli interessi, per una cifra di circa 58 miliardi di dollari, secondo i dati di Bloomberg, con la maggior parte di questi prestiti che non avrebbero cominciato a restituire la quota di capitale prima del 2028. A peggiorare la situazione ci si è messa anche l'ondata di licenziamenti che ha colpito la Silicon Valley nell'ultimo anno. Pensate che solamente tra Google e Facebook sono state licenziate oltre 30.000 persone e per la maggior parte erano figure manageriali. Se a queste ne aggiungiamo altre 15.000 licenziate da Salesforce, Cisco System e Twitter, sempre nella zona di San Francisco, è facile pensare che molti di questi manager avessero un mutuo aperto con First Republic Bank, vista la concentrazione demografica di questi prestiti. Ma tutti i nodi vengono al pettine e dopo un meno 95 per cento e ben 113 blocchi delle contrattazioni per eccesso di ribasso del titolo in borsa negli ultimi due mesi, gli investitori hanno fatto capitolare l'azienda. Lo scorso weekend infatti l'ente che regola i depositi e gli istituti bancari americani è intervenuto e ha intermediato l'acquisizione della banca da parte di JP Morgan, coprendo così le perdite della banca per 13 miliardi di dollari. JP Morgan ha così messo a segno un grande affare, simile a quello che UBS ha fatto con l'acquisizione di Credit Swiss. Questa volta il fallimento è costato meno ai contribuenti, solo si fa per dire 13 miliardi di dollari contro i 20 miliardi di Silicon Valley Bank, ma si tratta comunque del secondo fallimento di una banca per dimensioni della storia americana, dietro solamente a quello della Washington Mutual nel 2008. L'atteggiamento dei regolatori è stato quello di far morire la banca in difficoltà, atteggiamento che è stato molto criticato. Su Twitter ovviamente si è scatenata la barahonda delle meme, ma la situazione è molto seria secondo gli analisti. Così facendo infatti si è creato un precedente che di fatto non invoglia i grandi gruppi bancari ad acquisire una banca più piccola, se non quando la banca piccolina è già in una condizione disperata. Nel fare così inoltre i grossi gruppi bancari godono anche della ridistribuzione delle perdite. Per salvare il salvabile infatti i regolatori alla fine sono anche costretti ad intervenire ponendo delle garanzie e prendendosi in carico appunto delle perdite. Un altro grande problema è che continuando su questa strada delle acquisizioni si rischia di avere un monopolio da parte delle grandi banche che ricordiamolo non trattano prestiti alle piccole imprese. Questi prestiti infatti sono erogati proprio dalle piccole banche regionali che se dovessero sparire porterebbero problemi di liquidità in tutto il tessuto delle piccole e medie imprese. Per quanto fossero banche piccoline ricordiamoci che le tre banche fallite da inizio anno avevano un valore in asset più alto della somma di tutti i fallimenti bancari avvenuti nel 2008. Il mercato tra l'altro ha già preso di mira la prossima vittima, la Pacific Western Bank che ha già perso più dell'80% del suo valore in borsa con un meno 50% nell'after market di mercoledì dopo che la banca ha dichiarato che sta valutando delle opzioni per il suo futuro, compresa la ricerca di un compratore. Vedremo se la banca riuscirà a superare il weekend. La crisi però delle banche regionali sembra non volersi fermare. Basta seguire la striscia dei depositi in uscita da queste banche per capire chi saranno le prossime vittime, come vediamo da questo grafico. In uno dei nostri webinar del lunedì precedenti avevamo appunto comunicato che noi di investire.biz avremmo comprato le azioni di JP Morgan proprio perché si trovavano in una condizione di vantaggio. Questo sta effettivamente avvenendo quindi io vi aspetto lunedì al webinar del lunedì alle ore 18 così faremo un aggiornamento sulla posizione di JP Morgan e vedremo appunto a che punto è questa operazione. Ti lascio il link in descrizione per iscriverti al webinar, non perderlo perché sarà molto interessante, iscriviti anche se non puoi partecipare in live così la mattina dopo ti mandiamo la registrazione del webinar.